La scuola resta la sorvegliata speciale nella lotta al covid da preoccupare al dato dei nuovi ragazzi in isolamento nelle scuole primarie di Como. Il numero è più che triplicato in soli sette giorni. Si è passato infatti da 179 alunni e nove classi in quarantena della scorsa settimana agli attuali, l'ultima rilevazione del 15 febbraio, 652 scolari per 32 classi attuali, oltre a 44 operatori. Numeri che allarmano e che sono stati evidenziati dai vertici di ATS in Subria durante il consueto punto della situazione settimanale. Salgono anche le cifre riferite agli alunni di scuole dell'infanzia e degli asili nido, con 359 ragazzi a casa rispetto ai 289 dell'ultimo monitoraggio. Senza particolare oscillazione invece i numeri delle secondarie a livello generale, invece l'andamento del contagio ha avuto un aumento la scorsa settimana, mentre in quest'ultima la situazione è stazionaria, con una leggera diminuzione a barese e un leggero aumento a coma, ha commentato il direttore sanitario di ATS in Subria Giuseppe Catanoso. C'è attesa inoltre per la delibera regionale che indicherà in maniera ufficiale e definitiva quali saranno i diversi hub vaccinali nei territori provinciali. E se l'aerofiere sembra oramai certa, sembra spuntare qualche incertezza su Villa Erba. Tra domani e lunedì si saprà con esattezza quali saranno le strutture individuate, aggiunge ancora Catanoso, non ho indicazioni specifiche, posso solo ipotizzare che per l'aerofiere, viste le caratteristiche, non dovrebbero esserci problemi. Infine ATS in Subria sta monitorando la situazione che si è venuta a creare a Bigiu, dove nei giorni passati sono stati individuati 14 casi di variante scozzese del coronavirus. È una situazione anomala, ha spiegato Catanoso, impossibile sapere come possa essere capitato.